Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di giovedì 23 novembre. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare come l'Italia e il Mediterraneo risultano pressoché sgombri dall'arrivo di perturbazioni e quindi caratterizzate da tempo mediamente stabile. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni atmosferiche si presenteranno principalmente stabili e soleggiate su gran parte del territorio. La ventilazione media proverrà dai quadranti occidentali ed i mari saranno principalmente calmi o a limite poco mossi. Nel corso del pomeriggio la situazione non vedrà grosse variazioni con i cieli che continueranno a risultare principalmente sereni lungo la fascia costiera e collinari, mentre nelle zone interne avremo condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Le temperature inoltre risulteranno in lieve aumento nei valori massimi con picchi compresi fra i 14 e i 18 gradi centigradi. In serata le condizioni atmosferiche continueranno a presentarsi stabili su tutto il territorio e caratterizzate dalla presenza di cieli principalmente sereni e poco nuvolosi. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.